Qualunque oggetto di uso comune era buono per portare denaro in Italia dai pacchi di caffè ai pupazzi di peluche fino al classico doppio fondo della valigia. Quasi 2 milioni di euro il denaro sequestrato dalla Guardia di Finanza nei primi 8 mesi dell'anno all'aeroporto fiorentino di Peretola. Negli ultimi giorni finanziari hanno individuato 8 persone in transito presso lo scalo fiorentino con somme di denaro non dichiarate superiore al limite di legge, cioè 10.000 euro. Sono 62 in tutto le persone fermate dall'inizio dell'anno, la maggior parte è dietrina cinese ma ci sono anche italiani e greci.